Io sono già venuta qua l'anno scorso e a dire la verità ho sentito le stesse emozioni che ho sentito la prima volta. Un campo accogliente dove si sente la napoletanità del territorio, quindi per una di fuori come me venire qua e sentire questo calore mi sprona solo a fare meglio. Spero che diventi il nostro campo, diventi il nostro fortino, che le squadre vengano e si sentano un po' intimorite da questa bella realtà.